Questo per noi è il cuore del problema di questo provvedimento. Il cuore del problema di questo provvedimento, che si chiama come vengono finanziati i LEP, è la ragione per cui l'opposizione che al Senato ha aperto con un voto di astensione un'interlocuzione su questo provvedimento, oggi in questa Camera si opporrà con tutte le forze ad una presa in giro che non ha avuto risposta. E la presa in giro che non ha avuto risposta si chiama come finanziate i LEP. Perché ci avete spiegato che questa autonomia, alla quale noi non ci opponiamo in termini di principio, era seria quanto quella sulla quale lavorava il governo Draghi, perché non ci sarebbe stato il trasferimento di funzioni senza la certezza delle risorse necessarie alle Regioni. E che i due termini, definizione dei LEP e finanziamento dei LEP, non sarebbero stati dissociati. Questo emendamento dice che si fa l'autonomia quando sono fissate la quantificazione e il finanziamento dei LEP. E l'emendamento viene bocciato. Io lascio stare, Presidente, quella, e mi assumo la responsabilità di questo termine, che è l'ignobile gestione di questo provvedimento alla Camera, dalla Commissione all'Aula. Perché quando un'opposizione vi dice che andiamo a guardare le carte, la risposta non può essere forzatura, compressione dei tempi, nessuna possibilità neanche di toccare i provvedimenti. E sarà una contrarietà assoluta anche perché, guardate, c'è l'imbarazzo della scelta. Voi aprite il dossier delle audizioni a caso e qualunque soggetto pone una criticità. Come verranno finanziati i LEP? Dove troveranno le risorse? Sarà mica che alla fine si ricorre all'unico criterio, cioè della spesa storica, che penalizza le ragioni del Sud senza nessun elemento di demerito? Questo non è accettabile. Non si procede in questo modo a fare le riforme. Ed è il motivo per cui il nostro gruppo fino alla fine voterà contro questo provvedimento. Ed è il motivo per cui vi richiamo ad un solo dato, che ad oggi, quando parliamo di soldi e di risorse sui LEP, le uniche esistenti sono il miliardo sugli asili nido del governo Draghi, messi lì dalla ministra Garfani, dalla ministra Bonetti e dai ministri che facevano parte di quella compagine. Dopo solo un po' di propaganda alla quale non cederemo. Grazie.